La città di Nizza, colpita ancora dal terrorismo islamico, questa volta tre persone sono state accoltellate e uccise, una donna addirittura decapitata, nella chiesa di Notre Dame. Ho sentito degli spari, poi ho capito che erano successe cose orribili là dentro. L'attentatore, un tunisino di 21 anni, fermato dalla polizia, ha rivendicato l'attacco. Sbarcato da Lampedusa appena qualche settimana fa, era arrivato da clandestino in Francia. Piantonato in ospedale dopo essere stato ferito a una spalla dagli agenti, dichiara di aver agito da solo. L'antiterrorismo indaga sull'episodio che segue di appena due settimane il barbaro omicidio di Samuel Paty, professore decapitato a Parigi da un estremista ceceno. Il Presidente della Repubblica annuncia che da oggi 7.000 militari presidieranno le strade del paese. In Francia non c'è che una comunità ed è quella nazionale. Voglio dire a tutti i cittadini che dobbiamo essere uniti, non importa quale sia il loro credo o se abbiano una fede. Dobbiamo stare vicini senza lasciare che le divisioni abbiano la meglio. Dalla comunità locale, soprattutto quella cattolica, si levano anche proteste. L'allerta era alta dopo l'omicidio di Paty e le reazioni di una parte del mondo musulmano contro la Francia. Così oggi ci si chiede se poteva essere fatto qualcosa in più. La prima reazione è stata di rabbia perché quando ci si aspetta una tragedia è meglio agire per evitarla invece di aspettare e discuterne a cose fatte. Fa arrabbiare perché sapevamo che sarebbe successo ancora e avevamo i mezzi per impedirlo, ma non abbiamo fatto niente al riguardo. Dobbiamo smettere di pensare ingenuamente che tutti abbiano buone intenzioni, perché non è così. Per la Francia, da oggi chiusa per l'epidemia, gli attacchi delle ultime ore sono un'emergenza nell'emergenza. Negli stessi momenti l'allarme è scattato anche ad Avignone, dove un uomo con un'arma, probabilmente uno squilibrato, è stato ucciso. A Lione è fermato un uomo con un coltello e a Jeddah, in Arabia Saudita, una guardia del consolato francese è stata attaccata e ferita. Per il paese è un momento buio, come non se ne vedevano da tempo.